il dodicesimo a Napoli e lo zano proprio sta lì paro dj mom dj mom niente questo è morto proprio si è spezzato una gamba utrone bello dovrebbe si no sull'altro segnava come un fiore di una mignota boh bion le fattori puntati su questo giocatore la lista di un ottimo avvio di campionato già numerose revisione 36 ancora pochi istanti e poi si comincia manca poco al via di questo match ci sono tutti i presupposti per divertirci un saluto da parte mia e di lele adani se volete sapere come andrà a finire rimanete con noi seri a pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo si sfidano Napoli ed Empoli partita che promette di tenerci incollati allo schermo fino all'ultimo sarà battaglia vera ragazzi in campo e tra due scu... e il portiere dice di no potevano sbloccarle mettere la freccia niente da fare portiere aveva altri piani parata straordinaria dell'estremo difensore e il portiere per lì può crossare per lì può crossare per lì può crossare attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio il portiere dice di no pallone intercettato è in alto ronto merda vantaggio solo sfiorato per occhio qui no no raga orco due pur istinto e salva risultato palla messa e mezzo tentativo di tessera dimenticare la spedita abbondantemente sul fondo e qui pierre non ha trovato un buon impatto con la palla è probabile che l'abbia colpita con la parte alta ed è uscita fuori una conclusione completamente sballata oh ma no non l'ha vista però è sbagliato l'Empoli poco fa il Napoli sotto attacco sotto assedio ho pure tre titolari colpito Lorenzo e Rosyman gliel'ha messa sui piedi arco oddio non può lasciare questi spazi cinque gol che stiamo rivedendo hanno sorpreso la difesa mettendo palla in mezzo va a approfittare l'Empoli niente saluta Tosano il portiere splendido intervento evitato un gol fatto il portiere ha salvato il risultato nell'occasione di prima negando un gol che sembrava già fatto e la disperazione di tifosi qui in tribuna la dice lunga riconquista il pallone con un buon intervento possono ripartire possono ripartire attenzione contropiede gestito davvero male lo vede prova a far partire io in avanti questo è il gol che vale la parte è un'altra la luce è luce e questa è una botta impressionante che non ha lasciato scampo il portiere siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'uno a uno è è il il corpo hanno spezzato bene la trama qui buona l'intuizione qui nulla di pericoloso hanno metri a disposizione spaglia il tempo occasione anderson ma i rami azione interessante questa, attenzione possono passare in vantaggio non si lascia sorprendere qui il portiere e non va ora e non va ora si chiude così il primo tempo 1-1 è proprio sì non è se quali si Secondo tempo che comincia col possesso Napoli Benassi Buono qui il lancio Può lanciarsi sulla fascia Ottimo il recupero, riconquista palla Grande appuntamento ed arrivo qui su ATV Una delle gare più attese della stagione Occhio qui va in porta eh Ma mia come ti ha coordinato Ah la cagatina ha tirato Eh del pallonetto tutto Perché ero convintissimo poverissimo Ma strada Daga Cross verso il centro dell'area Ha sferato il gol con questa deviazione di testa Decisiva la deviazione del legno Che ha impedito la palla di entrare Malo Il sangue freddo Hanno recuperato bene il pallone Sbaglia la misura Perdono palla in una zona pericolosa Vediamo cosa inventa ora C'è stata la deviazione del difensore Sarà dunque calcio d'angolo Corner battuto in mezzo Prova a spazzare Ma male qui Ci mette il corpo e respinge A spazio Comodo L'intervento del portiere Lo spettacolo del grande calcio Non finisce mai su ATV Ecco il prossimo match Che potrete Ma la buona Non può sprecarla Ma l'è Tettativo Che si spegne Ma l'è Sei buono Sì Conclusione che gli scappata Non è riuscito ad usare Per niente bene la mira Dai Ma c'è meno Oh la quant'è Entra bene scivolata Senza fallo Oh lì Cogli giovani Intercettano bene il pallone Gran palla a scavalcare la difesa Recupera palla il portiere Evidente supremazia territoriale Degli ospiti Negli ultimi 15 minuti Con perciò Con i panni nullo Nullo Ecco Goulam Pallone che è uscito Ci sarà rimessa dal fondo Porca mignotta Si avventa sul pallone E lo spazza Azione che sfuma Hanno spazio per andare in contropiede Occhio alla difesa Perché scoperta opportunità Che cazzo Mannaggia La matalazza La matalazza La matalazza La matalazza La matalazza La matalazza Che peccato De prima giro De prima giro Ho fidato Ho fidato Ho fidato Ho fidato Recupera palla E fa ripartire l'azione Ancora 5 minuti Da giocare Oh la Lozzano Devi volare Porco Dio Che hai 97.9 De velocità C'è il recupero Di Koulibaly Mamma mia Come sono postati male Poi L'arbitro concede Due minuti Di recupero Niente Fanno quale giota Con l'Empoli Non ci avevamo persa Con l'Empoli Porco Dio In croce Bastato Kaimu Dovranno farselo bastare E riversare E' un po' E' un po' E' un po' Napoli E' un po' Ma che c'è Un po' E' un po' Oh vanno Vanno da soli Nel senso Nel senso negativo Ha raccolto il suggerimento Del compagno E l'ha messa dentro Da distanza ravvicinata Contento Con la sconfitta Del Napoli In crisi Lo dice Ma hanno sbagliato E' un po'